Musica Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per Occhio ai giornali 7.30 puntualmente tutti i giorni dal lunedì al sabato Sfogliamo insieme i quotidiani che poi trovate in edicola, edizioni locali di Carlino e Corriere Adriatico Ma prima di guardarli, sono già pronti sul nostro touchscreen Procediamo come di consueto con l'almanacco e poi le previsioni del tempo Oggi sabato 29 luglio, Santa Marta di Betania Il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.36 Previsioni del tempo all'insegna della variabilità Vedete per oggi sereno, poco nuvoloso Debole attività cumuliforme pomeridiana nelle zone montane Ma ci sarà anche un transito di nuvosità lungo la fascia costiera Precipitazioni possibili, deboli isolati piovaschi Però nelle zone interne e più meridionali della regione Le temperature sono in aumento per domenica Si intensifica come vedete anche dalla cartina La nuvolosità anche sulla costa Quindi il cielo sarà irregolare, nuvoloso Con intensificazione di questi fenomeni Nella tarda mattinata Però in particolare nelle zone interne Dove vedete compare anche la simbologia dei temporali E la pioggia Quindi nel pomeriggio rovesci temporali Sparsi nelle zone interne Le temperature senza nessuna variazione di rilievo Vediamo per lunedì come per incanto Il lunedì come da copione Compare il sole pieno su tutta la costa Sereno, poco nuvoloso Debole attività Diciamo sui rilievi Nuvolosità lieve E nessuna precipitazione Ecco qua, questo era il tempo Da copione Bene Vediamo i giornali Entriamo subito nelle pagine dei giornali Vi porto in quella di apertura Del resto del Carlino Per l'edizione pesarese In testa di pagina Salto con pistola spianata Rappinato un centro di scommesse Poi a centro pagina Fotonotizia Si parla di eventi E particolarmente concentrati Nella Baia Dove però c'è una raccolta di firme Contro il comune Per il chiasso Fino a nottefonda E c'è addirittura Chi vende la casa Il titolo è Assediati dal rumore E poi due anziani Truffati Da finti operatori Aset Gli rubano pure le foto Della figlia morta Lo vediamo dopo Nella pagina Di Fano Andiamo con l'articolo Nella pagina 3 Che riguarda appunto Gli eventi Con decibel Fuori controllo Alla Baia È rivolta Dei residenti Il chiasso Fino alle 3 di notte Non fa dormire Nessuno E quindi C'è una raccolta Di firme Dei residenti Per avere Un tasso di vivibilità Accettabile Anche d'estate Nelle pagine Di Pesero Si parla Di un evento Che lascia tutti Molto sconcertati Trappola con lo scotch In via Battisti Filo adesivo Sulla careggiata Quindi teso Da una parte A parte Probabilmente Vedete In queste In queste due parti Qui Da Da un capo All'altro Della strada Con dello scotch Che vedete qui Che poi si è arrotolato Un motociclista Passa Sente il nastro Che gli si Attorciglia Alla gola E insomma Ha sicuramente Una reazione Istintiva E di paura Gravità assoluta Ieri pomeriggio Presentata Denuncia Alla polizia E anche perché Magari se Il Se lo scotch In sé Non presenta Un pericolo fisico Per il motociclista Però la reazione Istintiva Magari può portare Anche a una caduta Quindi insomma Non è tanto in sé Quello che è stato messo In campo Ma le conseguenze Di questo Si parla di caldo Di tempo Arrivano dieci giorni Di caldo Infernale Coltivazioni K.O. Cali della produzione Fino al 45% Un agosto Previsto Anche Con Punte Di 37 Gradi E gli animali Gli animali Insomma Sono in difficoltà Per questa seccità Non solo I campi E le coltivazioni Sicuramente L'episodio di cronaca Pistola alla tempia Fuori soldi Colpo da 10 mila euro L'altra sera Al gamenet Di Montecchio Accento straniero E quello che I due malvimenti Entrati in azione Avevano Pare Insomma Dell'est Riconducibile A accenti dell'est La pagina La pagina di Fano Come vi dicevo Ve lo abbiamo fatto vedere Tantissime volte Sia sulle pagine dei quotidiani Riportate queste notizie Le volte le abbiamo documentate Anche noi Con le interviste Insomma Le truffe agli anziani Solita tecnica Suonano il campanello Se ne inventano una Dietro l'altra O quella del figlio Nipote In difficoltà Per un incidente Oppure i controlli I falsi controlli Sono le due tecniche Più utilizzate Questa volta A farne le spese Sono Sono anziani Due anziani Raggirati Marito E moglie Che Insomma Hanno subito Questo Questo assalto Questa violenza Dentro casa Due donne si presentano Anche ben vestite Con modi affabili E affabulatori E Carpiscono La benevolenza Delle persone anziane Che Spesso Hanno Così Come dire Le difese Un po' Un po' Basse E rubano tutto Anziani Ragginati Scompare Addirittura Questa è una cosa Senza Senza senso La foto Della figlia Deceduta Due donne E un complice Entrano in casa E fanno Man bassa Che dire Questo è Noi lo ripetiamo Sempre Attenzione Non fate entrare Nessuno Dentro casa Soprattutto se si dichiara Addetto a qualsiasi cosa Aset Enel Gas Multiservizi Non mandano nessuno A casa vostra State tranquilli Nel caso che Comunque avrebbero Tesserine di riconoscimento Mettono gli avvisi Nel portone Quindi c'è tutta una procedura Ben precisa Chi suona e dice Sono di Lasciateli dove stanno Non aprite l'uscio Della vostra casa Ancora Da Fano Circo Trave Indebitato Trema il calcio A5 Le società Le società Che si allenano Nella stessa struttura Hanno incontrato Seri È una stagione A rischio Recuperati 20.000 euro Ma intanto Il centro di tennis Da giugno È senza luce E senza E senza gas E poi L'ex sindaco Carnaroli Propone Un vecchio progetto Va recuperato Il progetto Del parco Tecnologico Andiamo a Urbino Con il Carlino Perché si parla Di Scaramucce Infinite In consiglio Tra sgarbi E altri soggetti Politici e sociali Della città Polemiche infinite Appunto Titola Il Carlino Sgarbi contro Crespini Che replica Solo chiacchiere Dal rinnessimento Alla festa del Duca Volano le frecciate Tutti contro tutti Insomma La bagarra totale A fondo Di Moretti Che dice La gestione Della rievocazione La rievocazione storica È dilettantesca E qui vedete Nella foto Francesca Crespini Che è uno degli organizzatori Della festa del Duca Di metà agosto A Urbino Cambiamo testata Andiamo nel Corriere Adriatico Fotonatizia Anche qui Dedicata agli eventi Ma con un altro tono Perché si parla Di tutti gli eventi Che sono Sono presenti In questo format Chiamato Mari e Monti Tutto quello che avverrà Dal palio Allo show La festa dell'Avi Insomma C'è un ampio Calendario E poi Cronaca Bombe d'acqua E l'accitrappola I baby vandali Sono un pericolo Anche qui si attira L'attenzione Su queste Su questi Su questi Su questi Atteggiamenti Un poco Da baby gang Signora colpita All'occhio È andata All'ospedale E scuterista Ha rischiato Di cadere Come appunto Vi abbiamo fatto vedere Anche nella pagina Del resto del Carlino Ed eccolo qua Vedete qui Nella pagina Del Corriere Adriatico Snonciolati Tutti gli episodi Dal 13 giugno Addirittura Si arriva Al 20 di luglio Insomma Bombe D'uova Scotch A ghigliottine Rai dal mare Insomma Ce n'è per ogni gusto E caccia A questi Baby vandali Probabilmente annoiati E un po' viziati Che non sanno Come passare il tempo E si dedicano A queste Attività Alquanto Discutibili Una signora Colpita un occhio Ha dovuto andare In un ospedale E poi Un altro giovane Ha rischiato Di cadere In moto Vi abbiamo fatto vedere Come e perché Nell'altra pagina Invece si parla Di eventi Nelle pagine Del resto Del Corriere Adriatico Dalla palla Alla rocca E qui la festa Nel tour Di Radio Monte Carlo Il concerto Anche di Venuti Al paio di Braceri Poi c'è la festa Dell'Avis E vedete qui Insomma Ci sono tutte le manifestazioni Snocciolate in questa pagina Per l'estate E poi i format I format Delle associazioni Degli albergatori O delle persone Che accolgono i turisti Non solo spiaggia L'APA presenta Il pacchetto Di escursioni Per far conoscere L'entroterra Ai vacanzieri Il presidente Oliva Dice la stagione Si è ripresa Adesso gli albergatori Stanno andando Verso il tutto Esaurito E qui insomma A questo riguardo Qui a Fano Noi ce ne abbiamo una Che da tanto tempo Di scuola è successo Che si chiama Itineris E mette in contatto Appunto La costa Con l'entroterra Andiamo a Urbino Con le pagine Del Corriere Adriatico Si parla di sanità I privati Entrano negli ospedali Obiettivo è Abbattere le liste D'attesa Obiettivo è Usare più macchinari Quindi A Cagli Fossombrone Sasso Corvaro E Pergola Dotazione strumentistica Al top dell'Europa Manca il personale Per utilizzarla E quindi insomma Se queste attrezzature Fossero attive H24 Sicuramente Le liste d'attesa Avrebbero Un bel Insomma Una bella Sfalciata A Fano Si parla di aeroporto Capitale ridotto Per le perdite Passate Della Svalutazione Di 434 mila euro Oltre alla metà Riferita Agli esercizi Di Fanon Fortuna E precedenti Al 2016 L'amministratore Ruggeri Dice Sanato Il binancio Ereditato Non più in sintonia Con la normativa Corrente Chi ha votato Contro l'atto Sul possesso Dell'area Contrario Ai salvataggi Questo è il commento Del sindaco Massimo Seri E buona notizia Per chi Naturalmente Passa il suo tempo In Sassonia Perché È stata Rimessa a posto Una scultura Una scultura Importante Che è questa qui Del Come la vedete Fatta qui Nella foto Restaurato Il monumento Del marinaio Seri Insomma Viene stimolato Da Perini Che dice Ora a Gimarra C'è bisogno Del centro Civico E poi Nuova caserma Dei vigili del fuoco Confermati Fondi Per 1 milione E 600 mila euro Arrivata Proprio ieri Dal ministero Dell'interno La comunicazione Di questi soldi A disposizione Benissimo Il touch screen Si è bloccato E quindi La rassegna stampa La terminiamo qui Con quest'ultima pagina Di Fano Grazie per essere stati In nostra compagnia Occhio ai giornali Torna Lunedì mattina Alle 7.30 Puntuale Vedete lì In sovraimpressione Il numero Appunto Al quale Mandare Le vostre Segnalazioni I vostri commenti Insomma Tutto quello Che ritenete opportuno E poi noi Daremo grande attenzione E seguito Alle vostre Segnalazioni Importantissime Per noi Grazie Grazie per essere stati Con noi Questa mattina Buon proseguimento Con le nostre Trasmissioni E Tempo permettendo Buon fine settimana A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti